Alla RSA Pierotti di Coreglian Terminelli, ben 23 ospiti della struttura su 24, sono risultati positivi al Covid-19. Positivi anche se operatori, di cui tre a bassa carica, e la situazione emersa in queste ore è subito comunicata dal sindaco. Il primo cittadino ha già chiesto all'ASL di trasformare subito l'RSA in una struttura Covid, così da mettere in sicurezza le persone, curarle con tempestività e contenere il più possibile la diffusione del contagio. Si parla di anziani, quindi bisogna essere estremamente tempestivi e precisi. L'ASL ha già iniziato a fare l'indagine epidemiologica su tutte le persone entrate in contatto con gli ospiti dell'RSA e con gli operatori risultati positivi e a tutte le persone che hanno avuto accesso alla struttura, la quale, come previsto per le altre RSA, aveva già sospeso le visite dei parenti e dei familiari. L'amministrazione comunale, inoltre, è in contatto diretto con l'ASL e con i responsabili della struttura per monitorare e tenere sotto stretta sorveglianza l'evolversi della situazione, informando in modo tempestivo la cittadinanza. L'invito, e questo vale per tutti una volta di più, è quello di rispettare le regole in modo rigoroso, evitare assembramenti e limitare le uscite allo stretto necessario. La responsabilità individuale, in questo momento, è la misura più efficace per proteggere l'intera comunità e, in particolare, i nostri anziani, che già hanno dovuto pagare un prezzo altissimo.